Il caso Puccia e la sentenza passata in giudicato con un relativo pignoramento sembrano non impensierire più di tanto il comune di Modica e nello specifico il sindaco Maria Monisteri che ha replicato spiegando le proprie ragioni in merito a una vicenda che risale a circa sette anni fa quando proprio la ditta Puccia gestiva la raccolta dei rifiuti in città accumulando nel corso del tempo diversi debiti su cui si è aperta una pagina legale che ci riporta ai giorni d'oggi. Le ultime notizie di giugno hanno parlato di un pignoramento di circa 3 milioni e mezzo di euro alle casse comunali notizie però in parte smentite dal sindaco Monisteri che afferma di essere serene in vista dell'udienza fissata già per il 6 novembre quando il comune sarà chiamato a spiegare le proprie ragioni. Sempre il primo cittadino smentisce anche quanto detto circa il pignoramento e parla di un danno all'immagine non trascurabile con diversi fornitori che avrebbero perso fiducia nell'ente a causa di informazioni passate in modo errato. Ci presenteremo all'udienza del 6 novembre non è stato fatto nessun pignoramento al conto del comune di Modica per cui ci difenderemo quelle che sono le nostre ragioni cercheremo di mediare in sede di tribunale. Ci può essere anche un danno all'immagine all'interno dei fornitori? Confermo che c'è stato e voglio tutti rassicurare che non è cambiato nulla a volte basta un articolo magari strutturato male per mettere in allarme i fornitori del comune di Modica.